La sindaca di Battipaglia a Sicilia Francese torna sullo scontro con il comune di Eboli in merito alla situazione del sito di compostaggio che sarebbe alla base dei miasmi che infestano il comprensorio da molti mesi. Un'occasione per ribadire le motivazioni che hanno portato alla visita presso l'impianto nei giorni scorsi che ha fatto infuriare il sindaco di Eboli Massimo Cariello con il quale al momento non è stata avviata alcuna interlocuzione. Vi ha fatto pace con il sindaco di Eboli? Allora per conto mio io non ho mai litigato, io vi invito ad ascoltare anche il mio video davanti al sito di compostaggio, non ho nominato nel sindaco e nella città di Eboli, ho semplicemente posto un problema perché effettivamente soprattutto in questi ultimi mesi e in questi giorni il puzzo è insopportabile. Quindi un buon sindaco si rega davanti, io non ho detto, non mi sono scagliata con il sindaco di Eboli, mi sono semplicemente voglio che ci sia un accertamento tecnico per vedere se i miasmi derivino da quel sito e cosa si può fare. Poi se il sindaco di Eboli fa i video, si accanisce con un nervosismo veramente che è ingiustificato, non lo so, forse aveva litigato con qualcuno prima, non lo so, e entra a gamba tesa negli affari politici del sindaco confinante, beh direi che questa è una scorrettezza istituzionale. Quindi io da parte mia non ho niente con il sindaco di Eboli, l'ho invitato anzi a ragionare, a sedersi su un tavolo perché penso che abbiamo entrambi bisogno di risolvere questi problemi e non torniamo alla rissa dei battipagliesi e bolitani da derby perché questa non è la mia strada, non mi appartiene. Quindi volentieri se il sindaco di Eboli vuole cercare di risolvere insieme a noi i problemi noi ci stiamo. Quali saranno le prossime mosse nel caso in cui questo dibattito non parta? Ma guardi, io le mosse le ho fatte perché noi abbiamo semplicemente chiesto all'indomani, io avevo bisogno che si accertassero da parte delle due, sia dai vigili urbani di Battipaglia che da parte delle autorità militari di Eboli che lì c'è una situazione di miasmi insopportabile. Dopodiché io ho chiesto un accertamento tecnico e aspetto, abbiamo chiesto alla regione perché il problema non me lo sono inventato io, lo dice la regione, lo dice Bonavitacolo che quel sito genera miasmi.